Ciao, bentornato o bentornata sul canale del Bateras Beat Roma, la scuola di musica per tutti. Allora, il video che andrai a vedere è un video un po' diverso rispetto a quelli che ho fatto finora. Fondamentalmente era nato solo per essere condiviso sui canali social del Bateras Beat Roma, quindi Facebook e Instagram, solo che lì le cose tendono a durare pochi minuti e poi scomparire un po' nel dimenticatorio. E invece, dato che questa è stata un'esperienza meravigliosa, ci tenevo a farla durare un po' di più e quindi ho deciso di mettere il video anche su YouTube. Quello che vedrete è il racconto di una domenica bestiale. È stata un'esperienza folle, io e Edoardo siamo partiti da Roma apposta per partecipare a questo concerto per sole e batterie organizzato dal Bateras Beat Sassari, da Fabrizio Murgia e da tutto il suo staff, tra il quale ci ha regalato una giornata meravigliosa, una di quelle che ti rimettono in pace col mondo, con la musica, insomma ti fanno sentire bene. Dopo due anni e mezzo, tre anni di pandemia, lockdown, è stato meraviglioso poter rivedere tantissimi amici e prendere parte a una manifestazione del genere che per me è l'espressione di quello che è la musica, ovvero stare insieme, divertirsi e suonare forte. Questa è la mia idea di musica, fammi sapere qual è la tua scrivendolo qui nei commenti. Quindi ora, via con la sigla e subito dopo, festa della musica al Bateras Beat Sassari. Sveglia le 5, aeroplano, è qua al Bateras Beat Sardegna perché oggi andremo a Sassari. Due con noi o cento compresi noi? No, noi non ci fanno suonare queste facce sicuramente. Ridendo e scherzando, ridendo e sterminando. Siamo arrivati a Ossi, dove si suonerà. Siamo arrivati a Ossi, dove si suonare queste facce sicuramente. Siamo arrivati a Ossi, dove si suonare queste facce sicuramente. Grazie a tutti. Grazie mille a tutti, buon proseguimento. Ci vediamo l'anno prossimo. Raffaele? No, è bello, è sempre bello. Ci vediamo tutti a prendere una birretta. Adesso iniziamo il vero. Edo, sono le 8 di sera, abbiamo iniziato a suonare. Vai, faccela! Eole! Ragazzi, quest'uomo ne è valsa la pena alzarsi alle 5 del mattino, prendere un aereo, dimenticarsi che cosa significa dormire. Tutto, 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 guarda come se mi stai a riprendere. Scusa, sto a fare un giro per sentirti a cercare. Quindi? Fighissimo! Il prossimo anno tutti insieme però. Adesso andiamo a ubriagarci.